Putin è sempre stato molto scettico sull'Europa in quanto istituzione europea, è sempre stato molto attento all'idea di Europa come somma di stati con i quali parlare singolarmente. Questa è la vera forza dell'Europa, il fatto che ci sono gli stati membri, ma oltre agli stati membri ci sono le istituzioni europee. E non ha cambiato il suo... No, mi sembra che sia rimasto sempre sulla tesi precedente. Però mi sembra questo il punto essenziale, la vera differenza è la comprensione di una complessità istituzionale, qual è quella che sta dietro all'idea di Europa e invece un'idea di Europa basata soltanto sul classico concetto di Stato. Invece l'idea personale sul Putin quando ha incontrato a Trieste altre occasioni che ha avuto? Ah beh, è un personaggio complesso, interessante, grande leadership, sicuramente un personaggio in cui bisognerà fare i conti. Grazie.